Chi sarà in grado di prendere il posto del Terra Nova Traiana nel campionato di eccellenza che comincia tra 24 ore? Difficile dirlo alla vigilia dell'inizio della stagione. Il Foiano dopo la vittoria su rigore in Coppa Italia ad Andiari si appresta ad affrontare la matricola Mazzola-Valdarbia. Zacchei non si fida dei senesi che non nascondono le loro ambizioni anche per gli investimenti fatti. Il Foiano ha un'età media molto giovane ma la squadra dopo la salvezza dello scorso anno ha cambiato mentalità. Attesa anche a Castiglion Fiorentino e Viola dopo tre anni ritrovano l'eccellenza ospitando al Faralli il Firenze Ovest. Formazione da prendere con le molle. Fani dovrà rinunciare a tre pedine ma non si scoraggia. Intanto in casa Baldaccio Bruni, Prato rimesso a nuovo dalla mano esperta di Paolo Garussi. La squadra bianco-verde smaltita da delusione di Coppa punta la lastrigiana. Mister Borgo a tal proposito è stato molto esplicito. Iniziamo a fare sul serio, iniziamo questo bellissimo campionato, speriamo di iniziarlo nel migliore dei modi. I presupposti ci sono tutti, i ragazzi sono caricati a mille e sono pronti a dimostrare il loro valore davanti, mi auguro, a un pubblico eccellente. Torzoni ha recuperato? Sì, Torzoni ha recuperato, dovremmo essere al completo, ora ci sarà solo l'allenatore che dovrà decidere chi mettere in campo dall'inizio i primi undici. Cosa si aspetta dal suo avversario, un avversario esperto, una squadra di mestiere? Io domenica sono stato a vederli, è una squadra secondo me forte, una squadra costruita per vincere il campionato, una squadra che ha mestiere, una squadra cattiva calcisticamente parlando. Però è chiaro, noi venderemo cara la nostra pelle, siamo una squadra giovane, come ho detto in altre situazioni, mi auguro che la gente abbia un po' di comprensione nel capire magari se c'è qualche peccato di gioventù, però ripeto, sono consapevole di avere una buona squadra, di avere allestito una squadra di ragazze eccezionale. Grazie.